Oggi celebriamo l'Epifania, cioè la manifestazione di Gesù al mondo. I magi ci dicono che ogni via che porta a Gesù è piena di gioia. E sicuramente ce lo dice, ribadisce anche padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista che torna in questo giorno di festa. Buona Pefana! Sperando che ci abbia portato qualcosa, io credo che il dono più grande che abbiamo avuto è proprio nella festa del dono, il dono per eccellenza, che è Gesù, che abbiamo contemplato qualche giorno fa all'inizio dell'anno civile. Io oggi, questa lezione, la intitolo proprio Cammina Cammina, un po' come ha fatto il grande Ermanno Olmi nel suo film famoso sui magi. Perché il nostro grande Matteo, che è l'evangelista che ci guida quest'anno nel ciclo A, a lui non interessa la cronaca, ma interessa farci capire il senso degli eventi. E noi ogni anno cerchiamo davvero di entrare dentro la bellezza di questi testi, perché ci sono tanti richiami all'Antico Testamento, alla tradizione orale ebraica. Matteo vuole mettere Gesù bambino nella festa dell'Epifania in relazione con le grandi figure bibliche, per presentarlo come il vertice della storia. Gesù è l'intervento definitivo del padre. Alla nascita di Abramo, la tradizione rabbinica ricorda che apparve una stella luminosa, presagio di grandezza, che impaurì il potente e orgoglioso re Nimrod. Ora però nasce il nuovo Abramo, il giusto patriarca del nuovo popolo di Dio. La stessa cosa alla nascita di Mosè, racconta il libro dell'Esodo, il popolo soffre schiavo del faraone. E il giovane liberatore viene perseguitato e costretto all'esilio, dopo aver ucciso una guardia che perseguitava il suo popolo. Così ora Gesù è il nuovo Mosè, ma è il vero liberatore dell'umanità. Ed è lui che è minacciato nella sua vita ed è costretto alla fuga. Lo abbiamo visto. Faraone, Erode, sono davvero le icone e i simboli del potere tirannico ostile a Dio. Sono le figure che ancora oggi potremmo identificare in certe persone che sono inclusiviste, dominanti, egoisti, che sfruttano anche il popolo. Solo in apparenza sono vincitori. Poi entrambi falliscono nelle loro trame di morte. Dall'Oriente la storia della Bibbia ci racconta la regina di Saba che sale per vedere e ammirare la sapienza del re San Romone. Qui oggi abbiamo la contemplazione in questo bambino della sapienza in persona. Cristo è la sapienza. Matteo è uno studioso. È una persona che scruta e studia le sante scritture e che coglie nelle profezie i segni della consolazione e della sicurezza. Dì ha già operato e porta a compimento la sua opera di salvezza. Ecco perché Matteo riflette sulla vita del Messia. Lo fa ovviamente dopo la Pasqua. E questo scrivo meraviglioso ravvisa nell'episodio dell'infanzia proprio i primi segni del suo destino. La gente di Gerusalemme che pur conoscendo le profezie non riconosce l'atteso della storia. Devono venire questi studiosi dall'Oriente. I capi religiosi a Gerusalemme, alleati come al solito con i capi politici, congiurano contro Gesù, non lo accolgono, lo rifiutano, come spesso accade ancora oggi. È solo qualcuno che lo riconosce e lo accoglie. E chi sono questi magi venuti da lontano? Sono dei lontani, i non ebrei, gli uomini del mondo. Se volete alla primizia della Chiesa. Oggi i magi questo rappresentano. Poi poco importa, sono tre, sono re, sono dati che non riguardano davvero Matteo. Matteo vuole farci capire che in quei magi sono i lontani che arrivano da Gesù. Come al solito i lontani si avvicinano, i vicini si allontanano. Chi erano davvero i magi? Degli astronomi. Vengono dall'ambiente mosopotamico, vengono da quel zoroastrismo che è a est. Sono dei saggi, persone che scrutavano il cielo. Non per cercare di leggere il futuro negli asti, piuttosto alla ricerca di un senso della loro vita. Cercavano una luce oltre quella umana. C'è una ricerca. Che bella, i magi oggi ci ricordano che dobbiamo cercare. Quando l'uomo non cerca, non ricerca, non si muove, non scruta i segni, direbbe il concilio, è un uomo già morto. E' così che intraprendono il cammino. Tutti gli antichi credevano che alla nascita di un uomo si accendesse in cielo una stella. Ecco, i magi hanno seguito questa stella, che è una sorta di griglia di lettura, che viene dall'est verso l'ovest. Il cammino che ha fatto anche Abramo. Vengono in Occidente per conoscere chi fosse davvero coloro che aspettavano. Gli stessi israeliti, secondo l'oracolo del profeta straniero, che era Balaam, attendevano il Messia come un astro. E' la famosa profezia di Numeri 24. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Perché poi la tradizione ha preso questa pagina e ci ha costruito sopra, direi, in modo mirabile. Ad esempio, noi rappresentiamo immagini con differenti colori della pelle, perché sono la raffigurazione delle diverse razze. Si parte dall'idea dei tre figli di Noè, capostipiti delle tre grandi razze d'Oriente, i camiti, i semiti, gli indoeuropei. Gli stessi nomi sono, che la tradizione ha dato a queste immagini, ma ripeto, non è lezione di Matteo, ma è la tradizione che si innesta su questa pagina per farci capire il senso degli eventi. Melchiorre, Melechiorre, il re della luce, quindi è il tipico nome etiopico, rappresenta questa razza nera, lucida. Baldassarre, Baldassarre o Bersharsar, è un nome tipicamente semitico babilonese, quindi viene dall'est. E Gaspare, Caspar, nome indoeuropeo persiano, è il nome che ricorda anche il Marcaspio, quindi le popolazioni indoeuropee sono simbolicamente i popoli delle tre grandi parti conosciute a quel tempo. D'altra parte, lo stesso Matteo ci mette davanti questo Magoi, e noi lo dobbiamo tradurre non maghi, ma magi, con questo plurale irregolare, perché Matteo pensava a questi astrologi dell'Oriente. La lettura poi lunghi secoli li ha fatti diventare tre, li ha fatti diventare re, per il fatto che portavano questi doni, ma queste aggiunte, io direi, sono frutto intelligente di chi ha compreso il testo e ha cercato di aggiungere dei particolari per orientare l'interpretazione. Quindi anche la tradizione, che vuole dirci? Tutti i popoli, tutte le razze, si mettono in cammino per contemplare la manifestazione di Gesù. E qui c'è un pensiero che qualche settimana fa ho già detto alle nostre amiche e ai nostri amici, in realtà siamo tutti dei migranti. Tutta la terra è una terra di migranti. E la terra è mia, ha detto Dio nel Levitico al capitolo 25. E immagini come si sono mosse. Da Oriente vengono verso Occidente, arrivano a Gerusalemme, interrogano Erode, il quale si rivolge agli esperti delle scritture. E le scritture dicono la profezia di Michea al capitolo 5, tu Betlemme di Efrata, quindi la fertile, vedrà davvero la nascita del Messie. Poi di nuovo la stella che li porta fino a dove è la casa, dove c'è quell'Emmanuele, il Dio con noi. Ecco, la parola che si fa è vento. E noi davanti a quella casa proviamo una grandissima gioia. L'Epifania ci rivela la potenza di Dio. I magi trovano un bambino segno apparente di impotenza, ma forte nell'amore. In quel bambino ritroviamo il segno di Dio. Notate come la liturgia ce l'ha detta a Natale, nella domenica dopo Natale, il primo gennaio. Ce lo ripete oggi. In quel bambino c'è la potenza di Dio, che è potenza dell'amore. Lì sorge la speranza del mondo. Ecco perché la figura dei magi, in questa bella pagina di San Matteo, sono i protagonisti di un cammino di fede. I magi sono quelli che aprono al futuro. Sono uomini che accolgono la salvezza. C'è anche l'idea della missionarietà dentro questa pagina, che è la forza trainante del mondo cristiano, in un mondo che deve cambiare con la nostra testimonianza. Ecco l'immagine di questi sapienti orientali che cercano il re Messia. Tutto questo traduce bene anche il nostro impegno di evangelizzazione. E invece davanti a questi pagini le figure negative. Erode, gli iscrivi, quel popolino che stava intorno al re che non lo riconosce, perché non fanno un salto di fede. Ecco che cosa ci chiede oggi la parola di Dio, questa grande solennità. Un salto di fede. Metterci alla ricerca di Gesù. Lui è il vero dono. E quindi davanti alla Gioia dei Magi vediamo il turbamento del re e di tutta Gerusalemme. Da una parte la stella e il suo splendore, dall'altra parte il buio della non conoscenza, della non accoglienza, direi, delle persone. E il Salvatore qui, prefigurato da questa stella, indica la sapienza aperta alla rivelazione. Sì, perché Dio parla attraverso due grandi pagine. La prima è la creazione. Ecco, la stella rappresenta anche questa. L'altra è la parola contenuta nelle scritture. È Gesù Cristo. Quindi questa ricerca che si conclude con la gioia, l'adorazione, l'offerta dei doni. E poi vanno via per un'altra strada, dice Matteo, per un'altra via. Questo racconto, Mestre Eckhart diceva, c'è il Natale dell'anima, la nascita del credente in Dio e di Dio nel credente. Noi dobbiamo fare una profonda esperienza spirituale. Il Natale non può essere che è vissuto così. Ecco perché queste pagine dovrebbero illuminarci. E in questo episodio, davvero dobbiamo vedere in controluce la vicenda del Messia, che poi è morto e risorto. L'apertura missionaria della Chiesa alle gente. Ancora una volta, vedete, è la Pasqua che in filigrana muove le fila di queste scene. E il Vangelo di Matteo è tutto incentrato sul dramma del popolo di Israele che rifiuta il Messia, di alcuni del popolo di Israele, che si esclude dall'eredità divina. È una provocazione da parte di Matteo, che si trasforma in profezia. L'intervento del Messia, per quanto contrastato e rifiutato, avrà il suo effetto, perché la misericordia vince sempre. E giustizia è realizzata. E anche nei tre doni, noi vediamo la legalità di Cristo, l'oro, la divinità, l'incenso, la passione, la misa, donne che già diceva Isaia al capitolo 60. Per cui potremmo riassumere in cinque momenti il cammino dei magi che oggi ci viene anche proposto. La risposta sincera al bisogno di Dio porta a seguire la stella, che è Cristo Signore. Noi dobbiamo seguire Cristo, nostra stella. Seconda cosa, la scrittura svela quello che cerchiamo e aspettiamo, perché nella scrittura c'è la parola, che è Cristo stesso. Terzo, la gioia del cuore mostra che davvero Lui è nato dentro di noi. Quarto, l'adorazione, espressione della fede profonda in questo Dio bambino. Quinto, i doni, che riassumono i segni della fede e implicano il dono più grande. Dio si è donato a noi perché ognuno di noi si doni a Lui. E allora questa pagina ci ricorda l'incontro. Che cos'è Natale? Un incontro. Che cos'è Pasqua? Un incontro. Che cos'è l'Epifania oggi? Un incontro. Tutti i popoli vogliono incontrare il Messia, il Dio fatto carne, perché in Lui noi troviamo il senso della nostra vita. Ecco perché l'Epifania oggi ci dichiara, ancora una volta, solennemente, chi è nato? Il risolto. Proprio oggi ci riproponiamo di meravigliarci di tanta bellezza. Grazie Padre Ernesto, riprendendo anche un po' quello che abbiamo detto la volta scorsa, la bellezza dello stupore. Io spero che davvero le nostre catechesi che facciamo servano a far capire il senso degli eventi. La fede non è miracolismo, non è cronachismo, ma è cercare. La scrittura che continua la parola ci offre insieme alla tradizione. la possibilità di capire il senso della scrittura. Quindi non banalizziamo il Natale, non banalizziamo l'Epifania, non banalizziamo il mistero che è Cristo, perché davvero capire e comprendere ci porta poi a vivere. Questo credo sia la più bella Befana che possiamo ricevere. Non vero, potremmo splendere come luce perché siamo immagine di Dio. Grazie Padre Ernesto anche per oggi. Grazie a voi, buona Epifania e buona Pasqua della settimana. Anche a te. Shalom. Grazie a tutti.